ciao sono andrea salvioli proda specialist db technologies nel video di oggi conosceremo i principali tipi di antenne utilizzati nelle applicazioni wireless innanzitutto possiamo suddividere le antenne in due categorie a seconda del tipo di ricezione antenne di tipo omnidirezionale e antenne di tipo direttivo le antenne di tipo omnidirezionale possono essere a loro volta suddivise in monopolo e dipolo o collineari questo tipo di antenne riceve il segnale in maniera uniforme da tutte le direzioni del piano orizzontale hanno dimensioni generalmente ridotte e sono tarate ad un quarto della lunghezza d'onda del segnale che devono ricevere le antenne di tipo direttivo possono essere suddivise a loro volta in lo periodiche o a pinna ed elittiche hanno una capacità di ricezione concentrata maggiormente in direzione frontale e di conseguenza riducono l'intensità di eventuali segnali provenienti da altre direzioni grazie a queste prime specifiche possiamo capire che è necessario scegliere un'antenna adeguata in base alla situazione in cui ci troviamo e al tipo di setup che vogliamo realizzare vediamo alcuni esempi di applicazioni per un palco in cui i trasmettitori restano fermi o comunque i movimenti sono molto limitati la soluzione migliore sono antenne direttive puntate in direzione del palco invece nel caso in cui i microfoni abbiano necessità di una grande mobilità la soluzione migliore sono antenne omnidirezionali le quali garantiscono una copertura uniforme di tutta l'area dello spettacolo le antenne possono essere suddivise anche fra antenne di tipo passivo e tipo attivo entrambe possono avere forme e dimensioni differenti legate alla specifica frequenza di lavoro per cui sono state progettate le antenne attive inoltre si caratterizzano per l'apparato di amplificazione a bordo dell'antenna stessa si può trasformare un'antenna di tipo passivo in una di tipo attivo aggiungendo un amplificatore in serie al cavo questo circuito aggiuntivo amplifica il segnale captato dall'antenna con un guadagno generalmente variabile e lo invia al ricevitore compensando la perdita del cavo stesso le antenne attive necessitano di alimentazione o a batteria da installare sull'antenna stessa o tramite phantom power generata dal ricevitore o dall'antenna splitter non tutti i tipi di ricevitore forniscono la phantom power ma sono alcuni modelli a differenza degli antenna splitter studiati appositamente per questo scopo nel punto precedente abbiamo parlato di guadagno vediamo di capire di che cosa si tratta e quali criteri considerare per la sua corretta gestione ogni antenna in base alla propria forma ha la capacità di ricevere meglio differenti tipi di segnale chiamiamo questa capacità guadagno o efficienza dell'antenna per le antenne di tipo attivo che hanno al loro interno un amplificatore aggiungiamo al guadagno dell'antenna il guadagno di amplificazione che aumenta ulteriormente l'ingresso del segnale captato e arriva in ingresso al ricevitore ma qual è il giusto livello di segnale in ingresso al ricevitore in ambito audio si può verificare un problema di troppa preamplificazione del segnale analogamente possiamo avere un problema simile con l'ingresso del segnale radio al ricevitore il livello del segnale corretto deve essere quindi adeguato al setup che stiamo realizzando né troppo basso da non essere riconosciuto né troppo alto da saturare il ricevitore un altro elemento importante da considerare è il tipo di cavo da utilizzare ogni cavo ha caratteristiche differenti e introduce una perdita del segnale che trasporta tale perdita varia anche in base alla lunghezza del cavo stesso maggiore sarà la lunghezza maggiore sarà l'attenuazione per compensare questa perdita si può utilizzare un amplificatore d'antenna o un'antenna di tipo attivo che già lo contiene è importante che i cavi che collegano le antenne al ricevitore abbiano sempre la stessa lunghezza per evitare malfunzionamenti legati ai differenti livelli di segnali ricevuti andiamo ora ad analizzare alcune problematiche dovute al posizionamento delle antenne in fase di installazione un primo fattore che può causare difficoltà è la presenza di elementi di metallo in prossimità delle antenne che possono ostacolare la ricezione in questo tipo di installazione abbiamo antenne passive monopolo collegate direttamente al ricevitore che si trova all'interno di un mobile rack questo è il livello del segnale spostando le antenne all'esterno del mobile vediamo che il livello aumenta se allontaniamo ulteriormente le antenne utilizzando per esempio delle aste microfoniche possiamo notare un ulteriore miglioramento del livello del segnale un altro fattore determinante è l'altezza a cui vengono posizionate le antenne è importante posizionare le antenne il più possibile in vista del trasmettitore cercando quindi di evitare eventuali ostacoli quali muri oggetti di metallo e anche il pubblico vediamo in questa acquisizione la differenza del livello radio ricevuto in due casi con un'antenna posizionata in basso a mezzo metro da terra dietro al pubblico la stessa antenna posta due metri di altezza sopra il pubblico nel caso in cui un sistema utilizzato non abbia antenne removibili bisogna posizionare il ricevitore stesso il più in alto possibile in questo capitolo della nostra serie video dedicati ai sistemi wireless abbiamo visto quali sono i principali tipi di antenne e come utilizzarla al meglio in base alle proprie necessità arrivederci al prossimo video ciao